Terza dose del vaccino anti-covid, come funziona, quando farla e come fare? Serve prenotarla o si viene chiamata dalla ASL? Tanti interrogativi a cui proviamo a dare una risposta. Le regioni si muovono autonomamente e in ordine sparso. La prenotazione in Puglia può avvenire tramite la Puglia di vaccina, selezionando la voce terza dose, ma non solo. Come ci spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione e Epidemiologia del Perrino di Brindisi, Stefano Termite. Chiunque abbia raggiunto i 180 giorni della seconda dose o della unica dose per quanto riguarda Johnson & Johnson, può fare la terza dose, la dose booster cosiddetta. Come si procederà? Con le prenotazioni tramite la Puglia di vaccina oppure? Oltre che con la Puglia di vaccina, anche tramite CUP, numero verde, e anche con accesso libero, come abbiamo sempre garantito nell'ultimo periodo, presso gli hub aperti, di cui si ha evidenza sulla pagina aziendale. L'affluenza adesso aumenterà notevolmente nella prossima settimana per eseguire la dose booster, per cui ci stiamo organizzando per far fronte all'aumento del carico di lavoro e dell'apertura degli hub, per cui stiamo riorganizzando un po' tutto, in modo tale da far fronte a una richiesta che noi ci auguriamo e siamo sicuri che sarà importante. E poi, a proposito dei numeri Covid nelle scuole a Brindisi e provincia, che da settembre hanno raggiunto 100 positivi, il dottor Termite rassicura. Possiamo dire che la situazione è abbastanza tranquilla, perché alla fine si tratta solo di, attualmente, 16 positivi, quindi non è un numero importante, con 14 ragazzi e un insegnante e un operatore scolastico.